Signori, benvenuti al Fight Club. Prima regola del Fight Club, non parlate mai del Fight Club. Seconda regola del Fight Club, non dovete parlare mai del Fight Club. Ciao a tutti ragazzi da TFG On The Band, guardate oggi siamo praticamente un po' fuori forma ragazzi, ma perché? Perché abbiamo messo la mode del Fight Club. Esatto. Quindi, prima regola del Fight Club. Non parlare del Fight Club. Seconda regola del Fight Club. Non parlare del Fight Club. Terza regola del Fight Club. Non parlare del Fight Club. Perfetto ragazzi. Perché ci sono distocchiazza del Fight Club allora? Perché praticamente tu vedi qua e dici sono i whatsapp, sono i quattro botigan ragazzi che dicono tutti la stessa identica cosa tra l'altro. Ok, e non ti lasciano passare. E non ti lasciano passare perché... Scusa, puoi spostare... Ah, no, no, no. Stanno bene? No, 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 io voglio solo partecipare al Fight Club. Eeeh. Ragazzi, cosa sta succedendo? Bene ragazzi, la mode inizia qua con una bella musichetta di sottofondo. Allora... C'è qua dietro di te. Ah, stu! Ah, ah, ahia, ahia! Ah, dai che sono fuori forma io, brutto stronzo. What? Eeeh. Ma, occhio... Oh, scusa. Cazzo, l'ho picchiato di brutto. Eeeh, cos'è sto vecchio? Perché sto vecchio al Fight Club? Perché c'è un vecchio barbone? Perché qui praticamente se tu hai il Fight Club di poveri e tu vinci i soldi puoi comprarti, vedi, un po' di armi, tipo faccio armi. Sì, no, perché ti stanno picchiando. Eh, lo so. Ok, ok, perfetto. You need... Cazzo, non ho soldi? Ok. Ah, ahia! Dai! Ahia! Quale è male? È stata questa qui? Cosa vuoi che mi faccia? Perché hanno? Perché hanno? Ma addomore. È una resistenza infima. Eh, ma sì, perché sono comunque uno... AIA! AIA! Comunque è più ciccione quello di te, è più grosso. Eh, questo è più grosso, stai attento, eh. Oh! L'ho schivato! Adesso ti do Tom. Ah, il cazzo non è andato giù per terra. È pesavia il primo corso. Ah, sì! Morda! Ah! Non vale a venire dal pubblico, però. Dal pubblico. Dal pubblico. AIA! Devo schivare, devo schivare. Allora, cazzo, sono lentissimo, schivalo! E toh! Uuuu! Ma che ho? No! AIA! Ah, cazzo, 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 sto morendo! No, 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 no! Picchiala, picchiala, falle male! Ma toh, cazzo! Ma perché il tuo pugno è sempre così potente? Oh! Oh! Putta, sta donna! Cazzo, sono incoglionito! Scusami, mi è venuto da stanto via! Sono incoglionito, sì! No! Oh! Oh! Perché sei stato stagliato? Allora, ragazzi, siamo stati eliminati dal Fire Club! Mi sa che dobbiamo metterci un po' in forma! Quindi, andiamo in palestra e a fare un po' di attività fisica! Rivenga qua, si va a nuotare! Anche con la pioggia, dobbiamo metterci in forma! Dopo un'ora di corso si va a fare un po' di triathlon nell'acqua! Perfetto, vai! Oplav! Rivenga, secondo te è sufficiente così? Ma un po' più etero! Bene, io direi che ci siamo, ragazzi, dopo un bel po' di palestra! Adesso possiamo andare un attimo al Fight Club! Ragazzi, ma non capisco io! Ma che... Permesso, scusate! Vi spostate! Per piacere! Permesso, scusate! Vorrei passare! Vorrei andare al Fight Club! Guardi le sberle! Dopo aver picchiato le guardie, ragazzi, siamo al Fight Club! Guardate quanto sono grosso! Guardate quanto sono... Ecco, ecco, ecco il primo! Il secondo, il terzo... Quattro ragazzi! Stavate grosso, ma non ti fanno niente, è inutile! Non mi fate niente! Un altro, un altro, dai! Signora! Dai, signora! Cosa fa? Signora culona! Senta, signora! Guarda, guarda questo! Stau! Mi sta coltelando sto vero! Ma tu non hai tempo di sanguinare! Io non ho tempo di sanguinare! Guarda che... Il candidato colpisce quelli morti per terra! Ma soltanto, io ho colbatto a pugni! Che cazzo me ne frega delle vostre armi! Non ho tempo! Oh! Che sta cosa ho fatto! È la nonna di Jackie Chan! Ascolta, eh! Con una bottiglietta coltella! Allora! Opa! Schivate anche questa! Sono troppo allenato bene! Guarda, sposto anche i cadaveri mentre picchio! Li ripicchio per essere sicuro! Esatto! Picchiami! Oh, tutto qui! Tutto qui! Tutto qui! Io sono la legge qua! Sì, va bene, ho capito, ma... Io qua sono la legge del... Ma ti intralciano! Oddio! Signora! Noi, signora! Ma è un uomo o una donna? Non so, non capisco! Un uomo! Come dice di picchiare, la picchio! To! Oh! Boom! E' un ucciso! To! Eee! Vabbè! Vabbè, in 50 adesso! Le nonnine! Le nonnine! Eh, che te col tempo! Eh, ma io lo schivo, lo schivo, lo schivo! Ma i muscoli bloccano il... Opla! I miei muscoli mi bloccano a me stesso! Guarda tutti i cadavoli! To! Oddio! Guarda quanta gente c'è per terra! Mamma mia, che macello ha fatto! Hmm... Dagli uno sberlo! No! Eh no, aspetta che hai fatto... Ah, una gomita! Oh! Aieieieieieie! Adesso ti scive il... Cosa fai? Voi, hai visto che dice agli altri di andare? No, 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 vai tu! To! Vai tu, vai tu! Dai, un altro! Aspetta che prendo un po' di soldi, perché non è di soldi! Guarda questa! Ragazzi mi ha sconfitto Ragazzi abbiamo fatto un nuovo tipo di allenamento Non vi svegliamo niente Basterà guardare cosa succede a questi qui Praticamente siamo diventati non più grossi Ma più forti Ho i pugni esplosivi Hai anche i piedi esplosivi Tutto esplosivo Ho bevuto Sei fatto di fuoco Esatto Dai vieni qua Tutto qua quello che sapete fare Dov'è la nonina con la mazza da bello Vieni qua Ecco eccola L'avevi vista quella con la mazza Si l'ho vista con la stronza Guarda questa Sei incoglionita anche tu Anche voi Anche tu Esplodono Faccio vedere io il fight club qua To fight club Morite tutti Morite E' la tecnica del fight club Vedi Del death club Guardate che era Che marcello Che marcello ragazzi Oddio Ma scusa E' nata come una roba di pugni Giusto? Si ma adesso il mio fight club è così E poi ci sono trasformati in piombo Esatto Ho i pugni di piombo Ragazzi potremmo andare avanti all'infinito Quindi direi che il video può finire qua Ciao a tutti ragazzi Al prossimo video Corre 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 Me ne vado dal fight club Direi che ho ucciso abbastanza gente Abbastanza gente Ah ma consideri Cioè il round sta l'anno avanti Eh si è Sono il 69esimo round Mi ricordo Seguito E quindi här